E per parlare di legionella abbiamo ospite in studio Antonio Muscatello, infettivologo del Policlinico di Milano. Buongiorno, innanzitutto la legionella è una malattia curabile? Sì, assolutamente sì, la legionella è una malattia causata da un batterio, si chiama legionella pneumofila ed è un batterio ambientale, è molto diffuso soprattutto in aree dove sono presenti canali d'acqua, fiumi e laghi, quindi è un batterio principalmente ambientale, però è una malattia. La legionella può dare due forme principalmente di malattia, una forma molto lieve che si chiama febbre di Pontiac che è una forma, possiamo definirla, autolimitante, invece è la forma con la quale non veniamo più spesso a conoscenza che è la legionellosi vera e propria. La legionellosi è una forma molto più grave che è curabile in un 85% dei casi. Senta, come ci si accorge di avere contratto questa malattia perché è fondamentale la tempestività della diagnosi? Sì, la malattia, diciamo la diagnosi della malattia è un po' insidiosa perché non ci sono dei sintomi tipici, ma sicuramente la presenza di febbre è molto elevata, spesso la tosse perché è una malattia principalmente polmonare, più raramente ed extra polmonare, sono i sintomi più frequentemente presenti. Ma ci sono altri campanelli d'allarme che spesso ci fanno, come dire, sospettare che sia la legionella la responsabile di questa malattia e sono principalmente la presenza di alterazione dello stato mentale, cioè confusione o stupore, associata spesso a sintomi intestinali, cioè dolore dominale. Senta, come ci si può difendere dal contagio? Che consigli si possono dare ai cittadini? Sicuramente essendo un batterio che vive molto bene in condutture dell'acqua a certi gradi di temperatura, il compito più importante è quello di prevenire, come dire, la presenza all'interno delle condutture d'acqua di acqua stagnante oppure di vasche di contenimento dell'acqua esposte al sole. Quindi quello che noi possiamo fare è evitare questo e da un'altra parte clorare le acque che noi abbiamo eventualmente in casa all'interno di queste vasche. Grazie, ringraziamo allora il dottor Antonio Muscatello del Policlinico, proseguiamo con il giornale, veniamo allo sciopero dei piloti.